La direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione a 19 ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale di Bari nei confronti di altrettanti condannati in via definitiva a pene detentive fino a 11 anni e 6 mesi di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti dopo il pronunciamento della Cassazione il 14 dicembre scorso. I provvedimenti fanno seguito agli esiti dell'operazione CULMI avviata nel 2017 dal centro operativo di Bari della DIA che ha consentito negli anni di disarticolare una potente organizzazione criminale transnazionale di narcotrafficanti tra Bari, Albania e Basilicata. L'operazione nel suo sviluppo aveva consentito tra l'altro l'arresto di 27 affiliati e il sequestro di oltre 3,3 tonnellate di droga tra marijuana, cocaina ed eroina. L'attività investigativa della DIA ha visto la preziosa collaborazione della Eurojust, l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria Penale e della SPAC, struttura speciale albanese contro la corruzione e la criminalità organizzata. Gli ordini di carcerazione riguardano soggetti italiani ed albanesi.